segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te intanto buongiorno buongiorno a tutti credo che la sciagura di questo paese sia avere politici come gasparri da 30 anni in parlamento che poi diciamo quando si tratta di risolvere i problemi dei cittadini non li risolvono diciamo fatta questa premessa credo che gasparri stai buono allora caro conduttore allora però così non funziona ma io mi rivolgo al conduttore ma lei che cazzo invita uno che dice stai buono ma cos'è una minaccia scusi no mi rivolgo al conduttore io non accetto di essere minacciato ma lei non è stato minacciato se non fosse intervenuto come avevo chiesto di stare sul tema così pregherei donno di sentire la sua posizione sul salario minimo senza delegittimare gli altri ospiti la prego donno ci arrivo subito se mi se gasparri mi consente grazie dicevo riscontriamo insomma dalla meloni per l'ennesima volta solo chiacchiere e propaganda perché poi